musica 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 squadrone cdc disegni dove sta? basta il finale guardalo veredur tanta roba roba 1-30-0 adesso con questo chananoglu e infatti non è walkout è cruz ok non è walkout non è niente quindi vediamo che ci fa trovare uno oro raro normalissimo la squadra gladback quindi mi sto preparando questa squadra per il full champions sperando ovviamente vadi bene allison ragazzi 89 abbiamo qui in pressino il nostro van dick per 7 partite quindi ce lo conteremo per queste partite e poi shorik venduto anti shorik e il suo pericolatore hanno accettato l'offerta della squadra del basic tas oh vedi chi c'è marcolino royce siamo a fella in yeah adesso che vi spagniamo il colore del paris saint germain ok allora questo non so quanto spettacolo e ci da rodrigo non c'è molto peggio ragazzi sinceramente ci da due bei spagnoliti questi ci riteniamo sempre per fare qualche ciao 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 ciao